Ciao a tutti, siamo a Berlino, ci troviamo a LIFA 2017 e siamo in questo momento allo stand della Boirer, un marchio tedesco da quasi 100 anni attivo nel campo della salute e del benessere e siamo qui per fare qualche domanda a Fabrizio Cassata, amministratore delegato di Boirer Italia. Quali sono le novità che presentate a LIFA di quest'anno? Allora, la prima cosa da dire è che la nostra è un'azienda che crede molto nella connettività. La prima cosa che vorrei dire è che Boirer Connect, che si vede in questo stand, è una nostra app che abbiamo già da anni e siamo stati i primissimi in assoluto a connettere dispositivi per la misurazione della salute con altri dispositivi e quindi con il nostro smartphone, ma sempre di più crediamo in questo concetto. Abbiamo rinnovato quest'app, l'abbiamo resa assolutamente più cruibile e a quest'app abbiamo collegato nuove materie, quindi nuove categorie di prodotti, basti pensare la pressione arteriosa, la glicemia, il peso e tutti i parametri legati al peso come la massa corporea, il body mass index, i grassi, la massa muscolare e tutto, la pulsosimetria, quindi ci sono un sacco di argomenti legati alla nostra salute che devono essere monitorati e controllati assieme. Quest'app governa sempre più prodotti del nostro catalogo e ecco una cosa molto importante, in questi anni stiamo rendendo i prodotti connettibili sempre più accessibili anche per dei budget inferiori, quindi ormai con pochi euro in più si può comprare una bilancia connettibile invece di una bilancia offline, chiamiamola così. Parliamo di salute, vorrei menzionare tre prodotti in particolare, uno è un aerosol, dalla farmacia abbiamo imparato molto e abbiamo imparato ad esempio che gli aerosol che si vendono in farmacie e che i farmacisti amano vendere perché sono quelli assolutamente più utilizzabili con i farmaci, quindi che sono più spesso utilizzati per le terapie inalatorie, sono gli aerosol a cosiddetti a compressore e ne abbiamo sviluppato uno unico al mondo che è piccolo come direi un pacchetto di sigarette ed è completamente portatile, ha una batteria al litio e ci consente di essere utilizzato in qualsiasi momento e quindi ripeto con questa tecnologia è possibile utilizzarlo con qualsiasi tipo di farmaco. Parlando di benessere invece noi torniamo a trattare quest'anno in modo ancora più profondito un argomento che avevamo presentato l'anno scorso che è il sonno. Sul sonno abbiamo due prodotti in particolare di cui vorrei parlare e uno è un dispositivo antirussamento che si può comodamente posizionare dietro l'orecchio e quindi consente di rilevare quando si russa e fa in modo che in qualche modo dormendo noi andremo ad assumere quella posizione che fa smettere di russare. Allora parlando di sonno e parlando di connettibilità siamo direi gli unici ad aver presentato un prodotto veramente innovativo si tratta di un coprimaterasso termico possibile comandare a distanza tramite il nostro dispositivo laddove sarà presente una rete wifi e una termocoperta per scaldare a distanza quindi con un comando il nostro letto. Grazie a tutti.